buonasera a tutti formato verticale oggi perché mi è stata regalata questa stupenda maglietta di bullet che mi piace un sacco vedete c'è anche la mustang del 68 e la charger le due macchine dell'inseguimento più bello del cinema statunitense e quindi voglio che la maglietta un po si veda e oggi facciamo in verticale allora argomento un po complementare a quello di ieri quando abbiamo parlato di stucco e di antirombo oggi invece parliamo di stagnatura è un esperimento che mi vede abbastanza neofita un paio di mesi fa praticamente dovevo rifare una sezione della escort sotto l'unotto sotto l'unotto per quanti di voi immaginano la parte posteriore della escort negli angoli negli angoli di fianco alle griglie di aereazione sotto l'unotto ci sono due angolini che marciscono sempre e c'è una ragione perché marciscano perché questi angolini sotto l'unotto praticamente sono composti da due strati di lamiera distanziati circa un centimetro tra uno e l'altro e in mezzo a questi due strati corre l'acqua perché praticamente c'è lo scolo degli angoli dell'unotto in ford si fidavano talmente tanto delle della tenuta delle guarnizioni che hanno preferito aggiungere dentro lo scalino della guarnizione un piccolo sfogo per per drenare l'acqua piovana che eventualmente si fosse infilata sotto le guarnizioni ok prendo la mia decisione rifaccio lo strato sottostante una pezza testa a testa bellissima non si vede niente e poi però dico adesso se lo rifaccio se lo rifaccio così com'era era è destinato a marcire ancora nel giro di un paio di mesi cosa facciamo allora beh ho pensato di spostare il drenaggio dell'acqua in un tubo separato a parte che vada a perdersi sotto il bagagliaio e poi ho pensato di chiudere riempiendolo questa intercapedine questa questo spazio questa intercapedine di di un centimetro presento al mio amico carrozziere davide il il problema e gli dico ma guarda davide io lo riempirei con della pasta di vetro resina che un centimetro se lo fa se lo beve se lo fa tranquillamente perché poi se lo rifacciamo con lo stesso sistema è perdente proprio il modo di pensare so che non è bello applicare un centimetro di vetro resina però insomma mi sembrava l'unica soluzione possibile interviene un carrozziere di esperienza che lavora lì da davide e mi dice beh perché non lo stagni ma gli ho detto guarda io non ho mai stagnato non sono non sono assolutamente capace lui mi fa ti insegno io non è una cosa impossibile vedo che hai una buona manualità per cui puoi impararlo in breve va bene facciamolo quindi preparo tutto levo il coperchio del bagagliaio levo il lunotto e lui si presenta con le sue stecche di di stagno con il cannello e gli strumenti di legno per lavorare lo stagno quando diciamo che viene smollato dal calore ci mettiamo lì e lui usa una pasta per per fissare una pasta a saldare per per fissare lo stagno e io rimango subito un po così perplesso perché mi rendo conto che questo sistema innanzitutto provoca grande calore sulle lamiere e il calore sulle lamiere le rende più attaccabile dall'ossidazione questo lo sappiamo tutti le macchine bruciate poi diventano rapidamente ruggini lo vedete no quando ce n'è una da rottamaio è sempre arancione di rugge secondariamente perché questa pasta come intuisco essere poi verifico è sia unta che acida sostanzialmente della vaselina con con un'acidità molto forte per decappare la lamiere per mettere allo stagno di di attaccarsi insomma facciamo questo lavoro poi lui lo lo rifinisce con una raspa mi insegna bene a farlo gli da una carteggiata finale il lavoro effettivamente è meraviglioso nel senso che sembra stampato nel metallo in quella maniera per cui risultato finale nulla da dire adesso dice adesso l'altro fallo tu il sabato successivo mi presento lì faccio l'altro riporto di stagno lo faccio io tribolo un po di più perché chiaramente non ho la mano faccio la mia faticaccia però alla fine il risultato è assolutamente anche se ci metto dieci volte tanto è assolutamente simile a quello che il carrozziera ha replicato cioè ha fatto dall'altra parte ed io ho replicato dall'altra beh insomma do una così una sbombolettata di 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 primer di weld primer giusto per coprire la lamiera scoperta dico poi ci penso e torno la settimana dopo mi rendo conto subito che la la stagnata sta ancora sudando dell'unto cosa che sta facendo ancora oggi a distanza di due mesi tre mesi sta sudando ancora dell'unto nel frattempo tutte le parti che sono state toccate dalla pasta a saldare sono sono comunque predisposte alla all'ossidazione tanto che si ossidano sotto la vernice all'interno del del bagagliaio comunque rimane bruciacchiata per il calore del dello stagno la pasta unta e acida e colata praticamente dappertutto perché mentre voi lavorate col cannello frigge cola poi ce ne vuole tanta frigge cola si infila dappertutto e schizza un po dappertutto per cui adesso io mi trovo ad essermi completamente pentito del lavoro che stavo facendo e che avrei fatto volentieri con la pasta di vetro resina che non avrebbe mai crepato non si sarebbe mai ossidata non avrei creato degli inneschi di corrosione detto questo la mia così la mia impressione è che la stagnatura sia un metodo completamente superato e che questo mito del carrozziere che non usa lo stucco ma stagna sia un così un mito un po di altri tempi un mito a sua volta ossidato perché perché sostanzialmente per fare innanzitutto un buon lavoro secondo me bisogna avere veramente una macchina scocca pulita e senza niente che si possa rovinare che si possa così contaminare con con questa pasta e con gli schizzi roventi col cannello e poi perché secondo me lo stagno è stato superato da altri prodotti che gli bagnano il naso e tempo non passa in vano secondo me bisogna anche cogliere gli elementi del progresso soprattutto nelle tecniche di restauro per cui non lo so la mia impressione è stata questa qualcun altro di voi ha esperienza con lo stagno forse l'ho fatto male io ditemelo cioè se ho sbagliato qualche cosa perché per me era la prima volta visto a fronte di un risultato perfetto ho pensato di aver applicato la tecnica giusta ma probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge e che voi potete dirmi mettiamo in comune secondo me questo qui è anche uno spazio per per mettere in comune per condividere delle informazioni per aiutarsi per cui aspetto un vostro ragguaglio ditemi se ho pensato bene se ho pensato male se ho fatto bene o se ho fatto male io nel frattempo vi vi ringrazio per la vostra presenza per per il vostro ascolto e vi rimando al prossimo video ciao a tutti e iscrivetevi al canale se vi piacciono i video ciao grazie